Italfodere è nella nuova sede di via Scavate Case Rosse 35 a Salerno, nei pressi del bowling di Ponte Cagnano, 089 40 62 28, info chiocciola italfodere.it Anche quest'anno, nonostante tutto, Vietri sul mare non rinuncia a celebrare l'amore. Torna infatti puntuale l'iniziativa Vietri in Lob, organizzata dall'assessorato al turismo, cultura e spettacolo, retto da Antonello Capozzolo. Diverse le installazioni luminose che sono state posizionate nei punti più caratteristici del territorio vietrese, a partire dalla sirena in piazza Matteotti all'ingresso di Vietri sul mare fino alle frazioni. Oltre alle installazioni luminose, quest'anno l'amministrazione comunale ha inteso organizzare anche un incontro online sulla pagina Facebook del comune di Vietri sul mare dal titolo Parliamo d'Amore. A darci qualche anticipazione sulle iniziative organizzate a Vietri sul mare in occasione della festa degli innamorati è proprio l'assessore Antonello Capozzolo. Anche quest'anno a Vietri sul mare si celebra l'amore in occasione di San Valentino. Come sempre ringraziamo il nostro sindaco, il dottor Giovanni De Simone, per aver reso possibile tutto ciò. Diverse le installazioni luminose, sono dei cuori meravigliosi che sono state inserite nei vari punti caratteristici di Vietri, in piazza Mendola, in piazza Matteotti, dove è davvero molto suggestiva l'immagine di questo cuore che fa da connici alla nostra splendida sedina. Inoltre a Marina è in piazza Donattilo della Porta. È previsto anche per domenica 14 febbraio alla 18 sui canali web del Comune un incontro online dal titolo Parliamo d'Amore a cura dell'assessorario alla cultura Letto Dameda e assessorato all'informatizzazione del collega Daniele Benincasa. Parteciperà la bravissima dottoressa Veronica Benincasa, psicologa, modererà la nostra giornalista del cuore Chiara Genta. Saranno ospiti a cure coppie di innamorati, un appuntamento imperdibile.